buongiorno amici di urbex e oltre allora mentre stavo effettuando l'esplorazione di alba fucens nelle vicinanze è presente anche un vecchio borgo medievale soprattutto la caratteristica che questo borgo ha un castello che alle mie spalle che si chiama il castello orsini poi nel 1915 avvenne un terremoto che distrusse tutto il tutto questo borgo comunque ragazzi rimanete con noi e esplodiamo grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Ok, amici siamo riusciti a trovare l'accesso al castello. Grazie a tutti. Piano di vegetazione amici. Piano di vegetazione amici. Ok, amici. Cosa possiamo dire di questa esplorazione. che abbiamo effettuato in questo borgo. Allora, mi spiace tanto vedere tutta questa devastazione e percepire con mano il trauma di questo terremoto. però, però, è veramente indescrivibile. Comunque ragazzi, io vi ringrazio di aver seguito questo video e ci vediamo qua per un'altra avventura solo qui su Urbex e Old. Ciao amici, alla prossima. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.